Manuel, hai mai gioco da scacchi? Sai qual è negli scacchi il pezzo più importante? A parte la donna, di niente. Il pezzo più importante è la torre. La torre si muove in orizzontale e in verticale. Un movimento semplice, geometricamente preciso. Eppure le torri sono i pezzi più lontani dal re. Ma re e torre sono uniti da una mossa molto particolare che serve a mettere in salvo il sovrano quando questo è minasciato. Nell'arrocco il re prende il posto della torre. La torre, quello del re. La torre si sacrifica per salvare il re. Mentre il re da quel momento non ha più problemi. A presto. 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 A presto.